Musica Allora, grazie, mi sono dimenticato di ringraziare Luisa Brunori, dalla quale tutta è partita Allora, ora seguiremo per la prima volta mondiale Mondiale, se qualcuno può dimostrarvi il contrario Con dei filmati, chiaramente Abbiamo fatto un esperimento di improvvisazione totale al workshop Per dire abbiamo vendato i musicisti Con delle cravate E abbiamo detto loro suonate e vediamo cosa salta fuori Sono uscite delle cose musicalmente molto interessanti E questa sera testiamo di riproporre un esperimento dal vivo Per cui procediamo al tentaggio Allora Chiamiamo David e Elvis Elvis Al di là della situazione apparente comica Il risultato musicale può veramente essere sorprendente Quindi vi invito ad ascoltare comunque con serietà Sempre più difficile Prendiamo se che lo trinchi in mano Perché non si può perfumare le cucarie? La pica era complicata La pica era complicata La pica era complicata La pica era complicata Non guardare Gianni sta parando eh Gianni come fai a girarti se non ci vedi? No Eh Tu sei C'hai il cambio Mi vedi anche Non so 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 Giulio sembri un vietnamite Un momento giusto Sopre momenti Venga Sopre momenti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.